Ecco signor Piero, oggi un bel momento per ricordare Don Milani in una scuola. Che cosa ha significato per lei per la sua vita Don Milani? Diciamo che Don Milani nella mia vita ha significato tutto perché mi ha insegnato a vivere, la cosa importante, quella lezione a amare gli altri, a non essere invidioso degli altri, a non desiderare le cose degli altri, a essere altruista, aiutare gli ultimi ma anche quelli che non sono ultimi, purché abbiano un bisogno. Quindi di servire in qualche modo la comunità in qualsiasi modo, piccolo o grande, che uno possa esercitare. Oggi sono venuto qua perché praticamente voglio trasmettere quella parola e quell'insegnamento che Don Milani mi ha lasciato. Ho avuto un'accoglienza bellissima dai ragazzi stamani e quando sono andati via e ho terminato la mia testimonianza mi hanno tutti abbracciato, 90 ragazzi che ti circondano. Per me è una soddisfazione immensa perché effettivamente non mi meritavo tanto. Però portare la parola a questi ragazzi di un consiglio, di un qualcosa, per conto mio è importantissimo perché anche se si semiva poco qualcosa si raccoglie e questi ragazzi hanno bisogno di una parola dove praticamente lo studio, che è una cosa importantissima, ma il sapere lo devono capire, devono veramente mettercela tutta in modo da non essere lasciati indietro. E ho detto anche loro, specialmente come si chiamano i secchioni, una parola così, però gli ho detto di aiutare gli ultimi perché effettivamente a Barbiana eravamo tutti allo stesso livello. Quando uno sapeva, se l'altro non sapeva insegnava all'altro, quindi c'era una collaborazione, qualcosa che praticamente ti portava ad andare avanti tutti insieme e questi ragazzi devono andare avanti tutti insieme senza essere bulli, però amare quello che sono i propri compagni e cercare di condividere una società moderna come oggi ma condividere anche tutti i valori di questa società e eliminare quello che praticamente la coscienza ti dice che è sbagliato. Perché Don Milani si basava molto sulla coscienza, la coscienza della persona era la cosa più importante perché quella vocina che c'hai dentro la devi analizzare prima di fare un qualcosa e quella lì è veramente la cosa più importante che mi ha insegnato. Prima di parlare pensa o prima di decidere pensa. Ha un ricordo anche sul bel episodio dei ragazzi che, non so se c'era anche lei, che andavano verso il ruscello a piedi dalla scuola. Allora, io il ricordo del ruscello ce l'ho praticamente, però ce l'ho per una lezione sul peso specifico, non so se gliel'hanno raccontata così o meno. Comunque, Don Milani per insegnarci il peso specifico ci dà dei tocchetti di legno e ci dice di creare dei navicelli, delle barchette. E a un certo punto noi in officina il giorno lì abbiamo fatto gli scafi. Il giorno successivo siamo andati giù al Fatino e abbiamo messo in acqua praticamente questi vascelletti. Però dopo 50 centimetri, un metro, sono andati a fondo. E noi, increduli, gli abbiamo detto, ma come mai vanno a fondo se sono di legno? E Don Milani ci fa ragazzi, il peso specifico di questo legno è superiore a quello dell'acqua, quindi praticamente è come se fosse un sas. Va giù praticamente per questo. Allora la formula per farle navigare è svuotare e fare il peso, deve spostare tanta acqua quanto pesa il tronco. Quindi abbiamo svuotato il tronco e l'abbiamo fatti navigare. Un po' sbilenchi, ma non contento. Sono poi prese due pezzi di pomice che allora si adoprava per pulire le pentole, la pomice, e non c'erano i detersivi. Quindi praticamente con questi due li butta nell'acqua e questi galleggiano, vengono portati via dalla torrente. Prima ci fa dire ma cosa sono questi? Sono due materiali di pomice, praticamente è un minerale, quindi per noi pesante, invece galleggia. Don Milani dice se questo è un sas, una roccia, è più leggera dell'acqua, praticamente il peso galleggia. E quindi gli insegnamenti erano basati su esempi. Poi c'era lo studio, c'era tutto, però l'esempio era più importante.